Ok, alcuni casi di cose atrofiche in cui possiamo vedere davanti a usare questo tipo di tecnologie. Per esempio, quando dobbiamo evitare le limitazioni anatomiche, per esempio l'inferior alveolar nerve. In questo caso, il paciente non voleva ricevere il Drain-Bond-Graft, quindi abbiamo un ruolo di spazio per inserire l'implantazione. Ma non avevamo abbastanza aiutare e inserire l'implantazione standard. Quindi ho deciso di planare e inserire l'implantazione laterale alla nerve. No bypass, no bypass. Atrofic case, performed with navident, with a less invasive approach. This is the case, as you can see. I felt confident in each step that I was doing the correct thing. So, I didn't fear to cut the nerve because I was very confident with this technique. So, as you can see now, this is the CBCT post and the implant was inserted in the correct position. and the accuracy was very good. Then, just taking an intraloral impression post implant insertion and an hour after the delivery of provisional prosthesis in chemotherapy. Also, this is an interesting case, because the patient had four Strahman implants inserted 20 years ago by using the ball attachment and remove good prosthesis. But, she came into my dental office asking a fixed prosthesis. I told her that we lost a lot of bone during these 20 years. Probably the best was to add other two implants and pass to a fixed prosthesis. But, when I did the CBCT, I noticed that in the right position we had the chance to insert a tilted distance. But, it was not the same in the left side. The only chance for us was to pass lateral to the nerve. Ok? Here you see that I used a tool in order to link my jaw tank. Ok? This is just probably a transfer, I cannot remember, in order to link the jaw tank. And then I planted an implant lateral to the nerve. Ok? And this is the results. The result. This is the result. Also in this case, this is a simple case. But, we have enough paint in bone, but we cannot have enough space with. And then, for the second implant, I want to reach the septum. Ok? So, simple case, but that with an arm that can be easier. And, as you can see, by following the drill advancing into the bone real time, I was able to insert an implant of 16mm and reaching the septum as well for this implant. Ok? 15 minutes of surgery and everything was done. Ok. Just, ok. Ok. This is another technique I use for the posterior area of upper jaw, in which we cannot have enough bone in the ideal position of the implant, but we have bone in the mesial aspect or distal aspect, vestibular aspect or palatal aspect. So, I plan an implant where I have bone and then I move the bone into the ideal position in order to insert an implant with a major length. So, in this case, I produced the first osteotomy with a drill of 2mm maximum, in this direction, and then I moved the bone, as you can see in this image, in the correct position in order to insert a standard implant. But then, how do you... Because I use bone expander in order to expand the bone, and then the weaker wall is always the sinus wall. So, after you expand with the tube, with the last tube bone expander, when you reach the last 2mm, you move the sinus wall into the ideal direction, into the ideal position. Ok? Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. So, this case was an interesting case, because this patient came to my dental office, I removed the molar, and then I told him to come after one month in order to receive the implants. But when we came back... No more. I did the CBCT, and I noticed that there was no bone. So, I had some difficulties, and... But, looking out of the box, as well, I was able to see that we had bone in the palatal and the missial side of the patient. So, I planned the first osteotomy in the palatal and the missial side of the patient, and then with the bone expander, I was able to insert an implant of 13mm. So, this is a... This is a... This is a... The situation of the patient. This case... Have you documented this? Yes. This case, I wanted to use both techniques, right side, by moving the bone, ok? And left side, by using a tilted implants. Just to... 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 To play. So, right side, I decided to move the bone. As you can see, I was able to move the bone in a correct position, in order to put two parallel implants. And in the left side, I planned the tilted implants, and I inserted the tilted implants, and the delivery process. So, this is a shrine was able to do the tilted implants. As you can see, I was able to move the joint. So, this is the... So, this is the... This is the side, the tilted implants, as you can see. Ok? Quindi ho pubblicato questa tecnica in cui ho mostrato il miglioramento del sangue prima e dopo l'utilizzo di questa tecnica. Ma il più importante avvantaggio per me per usare questa tecnica è per il pterygoid. Come sapete, il pterygoid implante interviene questi tre trattori in un'area anatomica e si riuscita la regione spenoide della pterygoid. La pterygoid darà un'avvantaggio migliore che non può essere manualmente in un modo facile. Dobbiamo evitare la palatina descendo, ma hai 5 mm anterior-posterior per essere usato. Questo significa almeno 8 mm perché non sei un pedicolo, ma... 45. Eh? 45. Sì. 45. Quindi hai 8 mm per essere usato per una buona buona con alta densità. e questo è un caso particolare adentrante in cui non avevamo molti pezzi anche per il pterygoid, ma usando un avident era molto facile ad inserire un implante corretto pterygoid, come potete vedere qui. anche in questo caso, probabilmente ho fatto un errore in questo caso, perché ho planeato tre imprese paralleli, uno, uno e uno, ma quando vedo un imprese epiteregoid, ho sempre planeo un imprese epiteregoid. Probabilmente il miglior modo è di mettere un imprese qui, un imprese qui e qui, quindi ho usato l'implantato in questo modo. Ma sì, ho scelto il pterygoid. Probabilmente ho fatto un errore, ma al fine il risultato era buono anche bene. e questo è un paper che ho pubblicato usando l'implantato del pterygoid e la registrazione tecnica nel tratamento del pastore del dentolo e il errore uguale fu 2.6 gradi. Il stesso errore, ma se guardate l'apical, abbiamo 1.26 gradi perché l'implantato è più lunga. L'implantato è più lunga. Ok, questo è il caso che abbiamo parlato prima. No bone, no bone, no bone, no bone. Quindi ho deciso di planeare 5 imprese paralleli. Pterygoid, 2 in la parte del mola, 1 in la spina del nasce. Tutti paralleli, solo per usare abattamenti che sono più più di più. Ok, tutto il trattamento è stato buono per noi. Ma questo è un caso per un quad, probabilmente, per un zagomatico. Ma con il navide, ho potuto fare questo caso, in un'altra parte, in un'altra parte, usando 5 imprese paralleli. Ok, e questo è il caso. Voglio solo mostrarvi che è il momento che ho usato per fare la steatomia del pterygoid. e questo è il primo impianto. Un'altra parte, il trattamento, 3 volte, il testamento, il calipulazione dell'axis, del contragolo e del drill end. E poi, dopo questo, un altro testamento. Un altro testamento, un altro testamento. Un altro testamento. E poi, l'approccio alla osteotoma. E poi... Ok, questo è l'immagine. E come potete vedere, in meno di 10 secondi, potete fare l'osteotoma. In un modo accurato, dell'impianto del pterygoid. Ok. E anche, questo è un altro testamento, che ho pubblicato, usando 4 impianti frontali e 2 pterygoidi, nel trattamento dei 14 maxillari full archi. Un'altra opzione, che potrebbe essere fatta usando un evidente, è per gli implanti nasali. Ma... I implanti nasali... Non lo so. Perché quando usate i implanti nasali, in questo modo, potete fare una flotta, muovere la mucosa, e poi potete vedere dove sei, in modo di inserire i implanti nella posizione corretta. Vedete? Quindi, non necessitete... La stessa differenza tra il terreno e il trigoma. Sì, non necessitete il navigo, perché muovere la mucosa, la nasale mucosa, e poi potete usare la grilla per inserire la grilla nella posizione corretta. E anche i implanti. Questo è una nasale implant, in caso, periglio, 2 nasali e 2 zygomatici implants per usare tutti i implanti. E un altro caso potrebbe essere l'utilizzo di implanti transinusali, ma voglio dire a te che quando usiamo implanti transinusali, possiamo avere un problema. E il problema è che facciamo la corretta osteotoma, ma devi fare un hole che è molto piccolo e non in la direzione perpendicola del dritto. Quindi quando hai bisogno di inserire l'implante e hai bisogno di passare il sinuso, per esempio in questo caso, è molto difficile riuscire questo hole per usare un abident, perché c'è una spina, si arriva qui e poi l'implante va in un'altra parte. Sto stesso problema con l'implante. Quindi, la mia consiglia è di aprire un flap e vedere cosa stai facendo. E' un'opzione che è in abident, ma è molto difficile per le implanti transinusali. Come gesti la perforazione del membrano? La perforazione del membrano, è la mia idea. Se hai bisogno di acquistare l'implante, non è un problema se passate nel sinuso. Se hai bisogno di acquistare l'implante, devi riuscire il membrano, per sicuro. Questo è quello che la letteratura ci dice. Ma in questo caso... Si. Si. Se ha bisogno di più di 4 mm, puoi passare nel sinuso. Se non muovere il movimento. Si. E scusa, questa parte del nasale la vuoi dire in italiano? Ok, ora la dico finisco e poi la dico... Ora, la mia esperienza sulla implanti transinusali. Non sono un servizio maxillofacial, sono un dentista. Questa è solo una piccola esperienza sulla implanti transinusali. Ma faccio molti corsi sul laboratorio del laboratorio. Il laboratorio del laboratorio. Sono un tutore di questi corsi, almeno 5 volte ogni anno. Quindi... Sono appena 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 inserire le implanti transinusali. Ma la mia esperienza resta molto piccola. Quindi ho iniziato con questo approccio per usare alcuni modelli. Quindi ho iniziato in vitro esperimenti, per usare l'approccio extra sinusal. E in vitro tutto funzionava molto bene, per usare i modelli. Questa è la tecnica che è stata mostrata prima. per usare l'insertione dell'implante. Poi passiamo a cadaveri. Quindi... So... so... Ho andato al laboratorio. Al laboratorio del laboratorio. Al laboratorio di cadavere. Al laboratorio di cadavere. Poi, dopo questo, ho fatto anche un codice nel mio obiettivo, in Antigo, per il paciente clinico, e ho usato anche l'intelligenza artificiale in order di segmentare, automaticamente, tutte le pezze, come potete vedere, le pezze, le pezze, Le pezze, dove sono segnative da software, le pezze, la creazione digitale, e questo è l'approccio per il paciente, la stessa tecnica, questa è l'osteotonia di ogni implante, e poi, dopo questo, questo è il final risultato qui e questo è il pre e post e il provisional prosthesi, queste sono altre fabbricazioni riguardo ad aromatici, ma per esempio nel caso vivo, per me è stata una grande esperienza di capire che non c'è ancora il tempo per me di utilizzare questo approccio, perché ho usato 5 ore per inserire 4 imparanti e sono esforzato alla fine della operazione, volevo uccidere a me stesso, quindi in molti modi è necessario per me fare questo approccio prima di usare in pratica di questo approccio, stiamo lavorando su questo, ma ho bisogno di tempo ok, io voglio dire, sono l'esforzato, sono l'esforzato, sono l'esforzato, sono l'esforzato quindi l'esforzato è difficile, perché hai spesso con la mano, e la navigazione è anche l'esforzato, il giocatore è diventato, il giocatore è diventato, è anche l'esforzato, dicevi non l'esforzato, non invece se è iniziato e non ho scomparpinto, ok,k�re offrirmi per l'esforzato, tollevamo dell'esforzato sulla miracolxa l'esforzato della malachia telltale dellabrarza, ti chThis is the anatomical landmark, questo è il punto anatomico che tu devi evitare che è il dotto naso lacrimale quindi devi raggiungere questa piramide ma devi evitare che a livello apicale tu becchi il dotto naso lacrimale però diciamo che il problema degli impianti nasali non si pone perché tu sposti la membrana dell'ecoane e la vedi sta piramide tanto l'approccio è sempre palatale tu devi andare da palatale verso vestibolare e da mesiale verso distale solitamente e quindi tu la vedi passare la fresa se tu vogli la togli invece quello dalla cresta che vai al nasale tu dici translusale anzi non usare la nasale questo qui è tosto da fare perché tu prendi la fresa vai dritto come l'ho fatto no no vai dritto e becchi l'osso che ti interessa quindi tu l'osteotomia la fai giusta quando calibri l'impianto e lo metti siccome il buco che tu hai fatto tra l'altro non è perpendicolare alla fresa ma è obliquo ed è più piccolo dell'impianto quando tu cominci a inserire questo impianto e arrivi qua se non azzecchi e ce l'hai a punta che inserisci subito l'impianto che la punta si ingaggia spingi e se ne va dove vuole capito se tu non vedi se ne va dove vuole ma diciamo con il navide inter lo puoi fare si ma è tosto perché tu a un certo punto passi nel vuoto capito? è tosto che ti devo dire non è lo puoi fare ma puoi pure sbagliare tu fai bene l'osteotomia ma l'inserimento nell'impianto è difficile quindi ti devi fare degli impianti a punta perché poi lì c'hai 3-4 mm di osso buono quindi devi sotto preparare capito? quindi devi essere preciso quando arriva l'impianto qua c'è il rischio che se ti impatta la corticale non è mai preparato si romina pure l'impannatura dell'impresa esatto e poi non lo metti più e questo è tutto qui questa è la mia esperienza nel senso ti dico quello che io a volte mi sono fatto la cia mancina allora a volte mi sono fatto alla finestra diciamo appunto quello è un altro discorso è quello che ti voglio dire non puoi procedere mentre al nasale non c'è bisogno di navide niente perché sposti le coane vedi se vuoi usare tutto l'osso possibile immaginabile fare osteotomia con il navide voglio dire basta se ce la fai lo stesso l'optericoideono perché non vedi passare laterale al nervo perché non vedi ma il nasale tutto sommato vedi questo era il messaggio che volevo esatto volevo diciamo introiettare